43. Un lupo con gli occhi gialli sfrecciò davanti al pick-up. Distinto, Paul Thorson schiacciò il freno, e il furgone sbandò violentemente verso destra, mancando di poco il rottame bruciato di un auto articolato e una Mercedes in mezzo alle corsie della interstatale 80 che portavano a Ovest, prima che le gomme consumate riuscissero di nuovo a fare presa. Il motore del furgone sferragliava e sbuffava, come un vecchio che ha un incubo. Sul sevile passeggeri, Steve Buchanan infilò la canna della Magnum attraverso la fessura del suo finestrino abbassato e prese la mira, ma prima che riuscisse a fare fuoco, l'animale era sparito di nuovo nella foresta. «Gesù Cristo!» disse Steve. «Questi stronzi stanno uscendo dalla foresta adesso! Questa è una missione suicida, amico!» Un altro lupo corse davanti al furgone per provocarli. Paul avrebbe giurato che quel bastardo stava ridendo. La sua faccia era pietrificata, mentre si concentrava per individuare un sentiero tra i rottami, ma dentro era in preda una paura gelida di un tipo che non aveva mai conosciuto. Non ci sarebbero stati abbastanza proiettili per respingere i lupi quando sarebbe arrivato il momento. La gente nel furgone avrebbe guardato a lui per avere aiuto, ma lui li avrebbe delusi. «Ho paura! Oh, buon Dio! Ho paura!» prese la bottiglia di Johnny Walker Redd che si trovava tra lui e il ragazzo, l'aprì con i denti e beve un sorso che gli fece lacrimare gli occhi. La porse a Steve, che a sua volta beve per farsi coraggio. Forse per la centesima volta negli ultimi cinque minuti, Paul diede un'occhiata alla lancetta del carburante. Era appena a tre capelli di distanza dalla grande e rossa. Negli ultimi venticinque chilometri avevano superato due stazioni di rifornimento e il peggiore incubo di Paul si stava avverando. Una delle stazioni era stata rasa al suolo e l'altra aveva un cartello che diceva «niente benzina, niente armi, niente denaro, niente di niente». Il pick-up avanzò a fatica verso ovest, sotto un cielo di piombo. L'autostrada era una discarica di abitacoli distrutti e cadaveri masticati dai lupi. Paul aveva visto più o meno una dozzina di lupi al loro inseguimento. «Aspettano che iniziamo a camminare», pensò con certezza. «Possono sentire l'odore del serbatoio che si svuota. All'inferno, perché abbiamo lasciato la capanna? Eravamo al sicuro. Saremmo potuti restare lì?» «Per sempre», si chiese. Una folata di vento colpì il pick-up lateralmente e il veicolo trenò fino ai battistrada scivolosi. Le nocche di Paul diventarono bianche mentre lottava con il volante. Il carosene era terminato un giorno prima e il giorno prima che Arti Wisco iniziasse a tossire sangue. La capanna era a 30 chilometri dietro di loro adesso. Avevano superato il punto di non ritorno e intorno a loro tutto era desolato e grigio, come le dita di un becchino. «Non avrei mai dovuto ascoltare quella pazza», pensò, prendendo la bottiglia da Steve. «Finirà per farci uccidere tutti». «Una missione suicida, amico», ripete Steve, con un sorriso storto scavato nella sua faccia, coperta dalle cicatrici delle ustioni. Sorella sedeva accanto a Arti nel retro del furgone, entrambi protetti dal vento da una coperta. Stava reggendo il fucile di Paul. Le aveva insegnato come caricare e sparare e le aveva detto di mandare all'inferno tutti i lupi che si avvicinavano troppo. I circa 15 animali che li stavano seguendo scivolavano di qua e di là tra i relitti. E sorella decise di non sprecare munizioni. Accanto a lei, anch'essi sotto una coperta, c'erano i Ramsey e il vecchio che aveva dimenticato il suo nome. Quest'ultimo stringeva la radio a onde corte, anche se le batterie si erano esaurite da giorni. Sorella poteva sentire il respiro agonizzante di Arti al di sopra dello sferragliare del motore. L'uomo si teneva il fianco e aveva le labbra macchiate di sangue e la faccia contorta per il dolore. La sua unica possibilità era trovare un qualche genere di aiuto medico e sorella era arrivata troppo lontana con lui per lasciarlo morire senza lottare. La donna teneva un braccio intorno al suo borsone. La notte prima aveva guardato nei gioielli scintillanti del cerchio di vetro e aveva visto un'altra immagine strana, quello che sembrava essere un cartello stradale di notte, illuminato debolmente da un bagliore lontano su cui c'era scritto «Benvenuti a Matheson, Kansas». Siamo forti, orgogliosi e in crescita. Aveva avuto l'impressione di camminare nel sogno lungo un'autostrada che portava verso una luce che si rifletteva nelle pance di nuvole basse. C'erano state delle figure intorno a lei ma non era riuscita a capire chi fossero. Poi di colpo aveva perso la presa sulla sua visione ed era tornata nella capanna seduta davanti a un fuoco morente. Non aveva mai sentito parlare prima di Matheson, Kansas, ammesso che un posto del genere esistesse davvero. Guardare nelle profondità dell'anello di vetro faceva bollire la sua immaginazione come una zuppa in un pentolone e perché quello che ne usciva doveva avere una qualsiasi connessione con la realtà. E se invece una Matheson, Kansas esiste davvero? Chiese a se stessa. Avrebbe voluto dire che le sue visioni di un deserto con un cookie monster per terra e di un tavolo su cui c'erano sistemate delle carte per leggere il futuro erano anche esse di posti reali? No, certo che no. Ero pazza, ma non lo sono più, aveva pensato. Era tutta immaginazione, tutti sbuffi di fantasia che i colori del cerchio di vetro creavano nella mente. Lo voglio, aveva detto la cosa travestita da Doyle Haaland in quella stanza insanguinata nel New Jersey. Lo voglio. E io ce l'ho, pensò sorella. Io? Tra tutte le persone possibili? Perché io? Lei stessa rispose alla sua domanda. Perché quando voglio tenermi qualcosa non me la può strappare nemmeno il solo ecco perché. Sto andando a Detroit, disse Artie. Stava sorridendo e i suoi occhi erano lucidi per la febbre. È ora di andare a casa, non credi? Starai bene, gli prese la mano. La pelle era bagnata e calda. Ti troveremo delle medicine. Lei sarà così arrabbiata con me, continuò Artie. Dovevo chiamarla quella sera. Sono uscito con i ragazzi. Avrei dovuto chiamarla. L'ho abbandonata. No, non è così. Va tutto bene. Tu stai calmo e... Mona Ramsey urlò. Sorella alzò lo sguardo. Un lupo con gli occhi gialli, della dimensione di un Doberman. Si era aggrappato sul paraurti posteriore e stava tentando di superare il portello. Le mascelle dell'animale alzannarono l'aria. Sorella non ebbe tempo per puntare o sparare. Colpì la testa dell'animale con la canna del fucile e il lupo guai e ricadde sull'autostrada. Era sparito nella foresta prima che sorella potesse mettere il dito sul grilletto. Altri quattro lupi che stavano seguendo il furgone si sparpagliarono per trovare un riparo. Mona Ramsey stava balbettando isterica. Zetta! ordinò sorella. La giovane donna smise di blatterare e la fissò. Mi stai rendendo nervosa, cara, disse sorella. Divento molto irascibile quando sono nervosa. Il pick-up sbandò sul ghiaccio e la sua fiancata destra strisciò contro le carcasse di sei automobili ammassate prima che Paul riuscisse a riprendere il controllo. Seguì un percorso tra i rottami, ma l'autostrada davanti a loro era un cimitero di automobili. Altri animali erano in agguato ai bordi della strada e osservavano il pick-up superarli brontolando. La lancetta del carburante raggiunse la E. Stiamo avanzando solo con i vapori della benzina, disse Paul, e si chiese quanto sarebbero arrivati lontani, usando il Johnny Walker Redd. «Ehi, guarda là!» indicò Steve Buchanan. Sulla destra, oltre gli alberi senza foglie, c'era un'alta insegna di un distributore di benzina Shell. Superarono una curva e videro entrambi la stazione di servizio abbandonata con «Pentitevi, l'inferno è sulla terra!» dipinto in bianco sulle vetrine. E meno male, pensò Paul, perché l'uscita era bloccata dal relitto accartocciato di un autobus e due altre automobili distrutte. «Buone scarpe!» disse Arti nel retro del furgone. Sorella distolse lo sguardo dal messaggio, o dall'avviso, sulle vetrine della stazione di servizio. «Nulla batte un paio di scarpe buone e comode in cui camminare!» Gli si bloccò il respiro e iniziò a tossire, e sorella gli pulì la bocca con un angolo della coperta. Il pick-up borbottò. Paul sentì il sangue defluire dal suo viso. «Andiamo! Andiamo!» Avevano appena iniziato a risalire una collina. La sua cima era a mezzo chilometro di distanza, e se ci fossero arrivati sarebbero potuti rotolare giù dall'altro lato. Paul si spinse contro il volante come per spingere il furgone per il resto della salita. Il motore tremò e rantolò, e lui sapeva che stava per morire. Tuttavia le ruote continuavano a girare, e il furgone si stava ancora arrampicando sull'altura. «Andiamo!» gridò quando il motore tossì, sputacchiò e si spense. Le ruote continuarono a girare per una ventina di metri, rallentando sempre di più prima che il furgone si fermasse. Poi iniziarono a rotolare all'indietro. Paul pestò il piede sul freno, tirò il freno a mano e inserì la prima marcia. Il furgone si fermò a un centinaio di metri dalla cima della collina. Cadde il silenzio. «Ecco fatto!» disse Paul. Steve Buchanan sedeva con una mano sulla magnum e, con l'altra, strangolava il collo della bottiglia di scotch. «E ora, amico?» «Abbiamo tre scelte. Restiamo seduti qui per il resto della nostra vita, torniamo alla capanna o continuiamo camminando.» Prese la bottiglia, uscì nel vento gelido e andò al portello posteriore. «Il viaggio è finito, amici. Abbiamo finito la benzina.» Lanciò un'occhiata tagliente a sorella. «Sei soddisfatta, signora?» «Abbiamo ancora le gambe.» «Sì, e anche loro.» Annui verso due lupi fermi al margine della foresta, che li osservavano con attenzione. «Io credo che ci batterebbero in una corsa a piedi. Tu che dici?» «Quanto ci vuole per tornare alla capanna?» chiese Kevin Ramsey con il braccio intorno alla moglie tremante. «Possiamo farcela prima del buio?» «No», disse Paul. Guardò di nuovo sorella. «Signora, sono stato un dannato idiota a lasciarmi convincere a fare questa cosa. Sapevo che i distributori di benzina sarebbero stati chiusi.» «Allora perché sei venuto?» «Perché... perché volevo credere, anche se sapevo che stavi sbagliando.» Percepì del movimento sulla sinistra e vide altri tre lupi avvicinarsi attraverso i relitti delle corsie dirette a est. «Eravamo al sicuro nella capanna. Sapevo che non restava più niente fuori.» «Tutta la gente che è passata di qua doveva andare da qualche parte.» Insistette lei. «Saresti rimasto seduto in quella capanna fino a mettere radici.» «Avremmo dovuto restarci.» «Piagnucolò Mona Ramsey.» «Oh Gesù! Moriremo qua fuori.» «Cela fai ad alzarti?» chiese sorella ad Arti. Lui annui. «Pensi di farcela camminare?» «Ho delle buone scarpe.» disse lui con voce rauca. Si mise a sedere e il dolore gli si leggeva in faccia. «Sì, penso di sì.» Lei lo aiutò ad alzarsi, poi abbassò il portello posteriore e mise a terra Arti sollevandolo. Lui si tenne il fianco e si appoggiò contro il furgone. Sorella si appese la cinghia del fucile alla spalla, calò con attenzione il borsone a terra e scese dal cassone. Guardò in faccia Paul Thorson. «Noi andiamo di là», indicò la cima della collina. «Venite con noi o restate qua.» I suoi occhi erano del colore dell'acciaio, sul suo volto giallastro e rovinato dalle ustioni. Paul si rese conto che era la figlia di puttana più pazza o più dura che avesse mai incontrato. «Non c'è nulla dall'altra parte, tranne altro nulla.» «Non c'è nulla da dove siamo venuti.» Sorella raccolse il suo borsone e, con Arti che si appoggiava alla sua spalla, iniziò a risalire la collina. «Dammi il fucile», le disse Paul. Lei si fermò. «Il fucile», ripete lui. «Non ti servirebbe assolutamente a niente. Per quando sarai riuscita a toglierlo dalla spalla sarai carne macinata. Tieni.» Le offrì la bottiglia. «Bevi un sorso lungo. Tutti ne berranno un sorso prima di partire. E per amore del cielo, tenetevi addosso quelle coperte. Proteggetevi il volto più che potete. Steve, porta la coperta dei sedili anteriori. Avanti, dati una mossa.» Sorella beve dalla bottiglia e ne diede un sorso ad Arti. Poi restituì bottiglie e fucile a Paul. «Restiamo insieme», disse a tutti loro. «Restiamo in un gruppo ravvicinato, proprio come i carri quando gli indiani attaccavano. Capito?» Per qualche istante guardò i lupi che convergevano su di loro. Sollevò il fucile, prese la mira e sparò, colpendone uno al fianco. L'animale cadde azzannando il nulla e gli altri lupi gli si avventarono sopra e lo fecero a pezzi. «Va bene», disse Paul. «Prendiamo questa dannata strada.» Iniziarono a camminare, con il vento che infuriava intorno a loro, con maligne correnti incrociate. Paul si mise alla testa del gruppo e Steve Buchanan fece da retroguardia. Non avevano percorso più di venti passi quando un lupo salto fuori da dietro un'automobile ribaltata e sfrecciò sul loro percorso. Paul sollevò il fucile, ma l'animale si era già messo al riparo dietro un altro relitto. «Guardaci le spalle!», gridò a Steve. Gli animali stavano arrivando da tutte le direzioni. Steve ne contò otto, che si precipitavano verso di loro da dietro. Sollevò il calcio della magnum con il cuore che batteva come un rullo di tamburi. Un altro lupo arrivò correndo dalla sinistra, una traccia di movimento diretta verso Kevin Ramsey. Paul si girò e sparò. Il proiettile rimbalzò sull'asfalto, ma l'animale fuggì. All'istante, altri due arrivarono dalla destra. «Attento!», gridò sorella, e Paul si voltò in tempo per frantumare la gamba di un lupo con un proiettile. L'animale fece una danza folle sull'autostrada prima che altri quattro lo atterrassero. Paul sparò contro di loro e ne colpì due, ma gli altri fuggirono. «Proiettili!», gridò, e sorella ne tirò fuori una manciata dalla scatola che le aveva dato perché la portasse nel suo borsone. Ricaricò in fretta, ma aveva dato i suoi guanti a Mona Ramsey e la sua pelle sudata si incollava al metallo freddo del fucile. Infilò il resto dei proiettili nella tasca del cappotto. Mancavano settanta metri alla cima della collina. Arti si appoggiava pesantemente a sorella. Tosseva sangue e barcollava, con le gambe sul punto di piegarsi. «Ce la puoi fare?», disse lei. «Avanti! Continua a muoverti!». «Zanco!», disse lui. Bruciava come un forno, e il suo calore si diffuse verso gli altri raccolti intorno a lui. «Sono così!» La testa di un lupo scattò fuori dal finestrino aperto di una Oldsmobile bruciata accanto a loro, con le zanne che provarono a chiudersi sulla faccia di Arti. Sorella lo strattonò di lato e le zanne si chiusero con un rumore quasi forte quanto lo sparo del fucile di Paul che seguì un secondo dopo. Dalla testa schizzò sangue e cervello, e l'animale scivolò dentro l'automobile. «Stanco!», completò Arti. Steve vide due lupi arrivare di corsa da dietro. Sollevò la magnum con entrambe le mani, con i palmi viscidi sul calcio anche se stava gelando. Uno degli animali scattò di lato, ma l'altro continuò ad avvicinarsi. Stava quasi per sparare quando il lupo arrivò a tre metri di distanza, ringiò e corse dietro il rottame di una Chevrolet. Steve avrebbe potuto giurare che in quel ringio aveva sentito pronunciare il suo nome. Ci fu un movimento sulla sua sinistra. Iniziò a voltarsi, ma sapeva che era troppo tardi. Urlò quando la sagoma di un lupo lo colpì, togliendogli l'appoggio delle gambe. La magnum sparò saltandogli dalle mani e scivolando sul ghiaccio. Un grosso lupo grigio-argentato afferrò la caviglia del ragazzo e iniziò a trascinarlo verso la foresta. «Aiutatemi!» gridò. «Aiutatemi!» Il vecchio reagì più in fretta di Paul. Fece tre passi di corsa, sollevò la radio a onde corte tra le mani e la batté sulla testa del lupo. La radio si frantumò in un'esplosione di cavi e transistor e l'animale lasciò la caviglia di Steve. Paul lo colpì alle costole e anch'esso fu aggredito da altri tre lupi. Steve zoppicò per recuperare la magnum, mentre il vecchio fissava in orridito i rottami metallici che aveva in mano. Poi venne riportato da Steve verso il gruppo, dove lasciò cadere i resti della radio. Oltre quindici lupi stavano correndo in cerchio intorno a loro, fermandosi per divorare quelli morenti o feriti. Altri ne arrivarono dalla foresta. «Gesù santo!» pensò Paul, mentre l'esercito di lupi li circondava. Mirò a quello più vicino. Una sagoma saltò da dietro al rottame di un'automobile sul lato opposto al suo fucile. «Paul!» gridò sorella e vide il lupo saltargli addosso prima che lei potesse fare altro. Paul girò violentemente su se stesso, ma fu colpito e abbattuto da un peso azzannante e ringhiante. Le zanne dell'animale mirarono alla sua gola e si chiusero sul fucile che Paul aveva sollevato per difendersi il volto. Sorella dovette lasciare Artie per scacciare il lupo e diede un calcio nel fianco all'animale con tutta la sua forza. Il lupo lasciò il fucile di Paul, tentò di morderle il piede e si tese per balzarle addosso. Lei vide i suoi occhi, folli e sprezzanti, come quelli di Doyle Haaland. Il lupo balzò. Si udirono due esplosioni simili a un cannone e i proiettili della magnum di Steve strapparono il lupo quasi in due. Sorella si chinò di lato mentre il lupo le volava accanto, con i denti che ancora zannavano e le viscere che gli volavano dietro. Sorella fece un respiro. Si voltò verso Artie e vide che due lupi lo stavano colpendo contemporaneamente. «No!» gridò mentre Artie cadeva. Colpì uno degli animali con il suo borsone e lo fece volare di quasi due metri sull'asfalto. Il secondo lupo azzannò la gamba di Artie e iniziò a trascinarlo. Mona Ram si urlò e scappò dal gruppo, correndo accanto a Steve nella direzione da cui erano arrivati. Steve tentò di afferrarla ma la mancò e Kevin le corse dietro, la prese per la vita e la sollevò da terra, proprio nell'istante in cui un lupo spuntava da sotto un relitto e le intrappolava il piede destro tra le zanne. Kevin e il lupo tirarono Mona in un tiro alla fune mortale, mentre la donna strillava e colpiva e altri lupi uscivano di corsa dalla foresta. Steve tentò di sparare ma temeva di colpire la donna o l'uomo. Esitò con il sudore freddo che gli si congelava sul volto ed era ancora in trance quando un lupo di 30 chili lo colpì sulla spalla come una locomotiva a gasolio. Sentì il suono della spalla che si rompeva e rimase disteso a terra, tremando di dolore, mentre il lupo tornava indietro e iniziava a mordergli la mano con la pistola. Quegli animali erano ovunque adesso, sfrecciavano e saltavano. Paul sparò, mancò il colpo e dovette abbassarsi per evitare una sagoma che si era avventata sulla sua testa. Sorella colpì con il borsone il lupo che teneva la gamba di Artie, lo prese sul cranio e lo respinse. Kevin Ramsey aveva perso il tiro alla fune. Il lupo strappò Mona dalla sua presa e fu attaccata da un altro che voleva la stessa preda. I due animali lottarono, mentre Mona tentava freneticamente di allontanarsi strisciando. Paul sparò e colpì un lupo che stava per avventarsi su sorella da dietro, ma delle zanne lo afferrarono alla spalla e lui fu gettato sull'asfalto a faccia in avanti. Il fucile volò lontano. Tre lupi stavano convergendo su sorella e Artie. Il vecchio stava dando calci violenti all'animale che stava attaccando la mano e il braccio di Steve. Sorella vide Paul a terra, con la faccia sanguinante e l'animale sopra di lui che tentava di azzannarlo attraverso la giacca di pelle. Si rese conto che erano a meno di dieci metri dalla cima della collina. E lì sarebbero morti. Sollevò Artie come un sacco di panni sporchi. I tre lupi si avvicinavano lentamente, prendendosi il loro tempo. Sorella si preparò, pronta a colpire con il borsone e a tirare calci con tutte le forze che aveva. Al di sopra dei ringhi e delle urla sentì un ringhio più forte, profondo e basso. Guardò verso la cima della collina. Quel suono arrivava dall'altro lato dell'altura. Si rese conto che doveva essere un branco di lupi che accorreva per avere la sua parte, oppure il più mostruoso di tutti i lupi che si era svegliato nella sua tana. «Bene, avanti allora!» gridò ai tre animali che si stavano avvicinando circospetti. I lupi esitarono, forse perché confusi dalla sua determinazione, e lei sentì la pazzia affacciarsi di nuovo alla sua mente. «Avanti, figlie di bu...» Con il motore rombante, uno spazzaneve giallo superò la cima della collina, con i battistrada che passavano sui detriti. Aggrappato alla cabina chiusa da vetri, c'era un uomo con una giacca a vento verde con il cappuccio, che aveva in mano un fucile con il mirino telescopico. Lo spazzaneve era seguito da una jeep bianca, del tipo usato dai postini. Il suo guidatore aggirò velocemente i relitti, e un altro uomo con il fucile si sporse dal lato passeggero, urlando e sparando in aria. L'uomo con il fucile sullo spazzaneve prese accuratamente la mira e sparò. Il lupo centrale dei tre cadde a terra, e gli altri due fuggirono. L'animale sulla schiena di Paul alzò lo sguardo, vide i veicoli in avvicinamento e scappò. Un altro sparo di fucile colpì l'asfalto vicino ai due lupi che lottavano per Mona Ramsey, e anch'essi scapparono nella foresta. Mona raggiunse suo marito e gettò le braccia intorno a lui. Il lupo che aveva ridotto il braccio di Steve a un ammasso sanguinolento, diede un ultimo strattone, e scappò, quando un proiettile gli sfiorò la testa. Steve si mise a sedere urlando, con voce acuta e isterica. «Stranzi! Maledetti stranzi!» La jeep bianca slittò e si fermò davanti a Paul, che stava ancora tentando di riprendere fiato. Si alzò in ginocchio, con la mascella e la fronte graffiate e il naso rotto da cui zampillava il sangue. Il guidatore e l'uomo con il fucile scesero dalla jeep del postino. Sullo spazzaneve il cecchino stava ancora sparando ai lupi che stavano scappando nella foresta, e ne colpì tre prima che l'autostrada fosse libera di animali ancora in vita. Il guidatore era un uomo alto, con le guance rosse, che indossava pantaloni di tela sotto un cappotto foderato di pecora. In testa aveva un cappellino con la pubblicità della birra a straw. I suoi occhi castano scuro si spostarono avanti e indietro su quell'acero gruppo di sopravvissuti. Guardò tutti i lupi morti e morenti, e grugnì. Poi infilò delle mani consumate dal lavoro nella tasca dei pantaloni, ne tirò fuori qualcosa e la offria Paul Torson. «Una gomma?» chiese. Paul guardò il pacchetto di Wrigley's alla menta e fu costretto a ridere. Sorella era sbalordita. Camminò oltre la jeep bianca, portando ancora il peso di arti sulla spalla. Le scarpe dell'uomo strisciavano sull'asfalto. Superò lo spazzaneve e raggiunse la cima della collina. Lontano sulla destra, oltre degli alberi morti, del fumo si stava alzando dai camini di case con la struttura in legno, che si trovavano sulle strade di un piccolo villaggio. Vide il campanile di una chiesa, vide camion dell'esercito degli Stati Uniti parcheggiati su un campo di softball, vide una bandiera della Croce Rossa che pendeva dal fianco di un edificio, vide tende e automobili e camper a migliaia, sparpagliati nelle strade del villaggio e nelle colline intorno a esso. Un cartello stradale, appena oltre la cima della collina, annunciava «Prossima uscita, Homewood». Il corpo di arti iniziò a scivolare a terra. «No», disse lei con molta fermezza, e lo tenne in piedi con tutta la sua forza. Lo stava ancora sorreggendo, quando venero ad aiutarla per raggiungere la jeep bianca.